Non ho scelta. In questa classe non tanto grande, così quieta quando sono solo, ho visto passare tante facce che adesso neanche ricordo più. C'erano i buoni insieme ai cattivi. Adesso dove sono? Sono cambiati. Certo, così è la vita. Ma io cosa faccio ancora qua? C'è tanta vita là fuori passato quel parco di erba tutto verde? Forse ho tanto da fare ancora in questa stanza? È questo il mio lavoro? Starmene qui a sorvegliare, ad aiutare o a ammonire, ad insegnare? Ma se sono pochi quelli che vogliono veramente imparare? Invece là fuori potrei dirigere, comandare, farmi strada nella società? Oppure fallire, provare, trovare il minimo di felicità? Qui mi sento come un acrobata che cammina sulla fune fra due grattacieli in città. Non oso guardare ai lati, ma cammino dritto e mi bilancio.